Vediamo in questo video come gestire le maschere di Access a distanze multiple. Prima di tutto definiamo che cos'è un'istanza multiple. Il modo migliore è quello di partire dalla fine. Allora, la fine di questo video ha come oggetto il progetto che abbiamo discusso nel numero di novembre della newsletter utilizzare Access per davvero e ha a che fare con un form principale, una maschera principale che ha un controllo lista con i nominativi prelevati da una tabella e fin qui niente di strano. Supponiamo che l'utente faccia doppio clic sul primo nominativo per esempio il solito Alfred Futterkiste doppio clic, si apre e vedete la maschera che si chiama form clienti questa è la maschera clienti impostata su di un unico record vedete che la barra di navigazione record è stata disabilitata e mostra il dettaglio di tutti i campi del primo nominativo Alfred Futterkiste Ora, supponiamo che per esigenze del utente questa maschera debba rimanere aperta e quindi l'utente passi ad un altro cliente faccio doppio clic per esempio su France ok, Franchi SPA doppio clic, vedete, si apre non è che si apre un'altra maschera clienti in pratica è un'istanza della maschera clienti quindi in sostanza io nel database o come struttura soltanto vedete, ho un o solo oggetto clienti quindi ogni volta che il cliente fa clic su un nominativo differente si apre lo stesso oggetto ma con dei dati differenti cioè i dati relativi appunto al cliente selezionato queste sono le istanze multiple allora, se seguite le istruzioni che ci sono su web insomma, le prime che trovate su istanze multiple normalmente vi viene proposto il metodo seguente allora, create una maschera vuota struttura, ok, la accorciamo per brevità ok, e poi mettete un pulsante lo facciamo insieme così capiamo bene allora, inseriamo un pulsante di comando in questa maschera vuota ok, togliamo e annunciamo l'autocomposizione sul click sul click di questo pulsante dobbiamo dichiarare a livello di modulo un dim f as form per esempio e sul click diciamo set f uguale new form maschera 1 chiaramente bisogna prima salvarlo se no non funziona maschera 1, ok, ecco e poi a questo punto ricopiamo per brevitare altre istruzioni diciamo che la caption allora, la nuova istanza viene creata con la parola chiave new ok, quindi quando l'utente fa click sul pulsante viene creata la new form maschera 1 quindi fa un clone di se stesso in sostanza, ok poi nella caption diciamo istanza di e la caption dell'originale cioè mi è la parola chiave che sta per il form corrente, no? quindi se la prima volta ecco, facciamo così nella proprietà etichetta della maschera della maschera non del comando ok, andiamo su dovrebbe essere eccolo qua nel tutte etichetta scriviamo originale ok, così siamo in grado di distinguere qual è il clone e qual è l'originale ok allora in questo caso vedete sul click cosa succede? allora f as form è una variabile che ha come scope l'intero modulo maschera ok, quindi per i più tecnici per i non tecnici f è una variabile che viene definita come form ok e che viene vista da qualunque routine della maschera stessa allora set f uguale new form maschera 1 fa esattamente crea l'istanza ok alla nuova istanza che è f l'etichetta della nuova istanza viene data la stringa istanza di mi caption mi sta per il form da cui viene appunto fatto click no? cioè il form che in questo momento è quello di riferimento e quindi vediamo qual è il risultato f visible uguale a true allora non basta fare il new form maschera il nome della maschera ma occorre questa è la istruzione cruciale che la fa visualizzare al schermo cioè quando si creano nuove istanze è nascosta per default non si sa perché quindi bisogna impostare la proprietà visible su true ok tutto qua vediamo un po' che succede però perché quello che vi voglio fare che voglio dimostrare è che il metodo classico non rende le istanze indipendenti l'una dall'altra cioè se chiudo l'originale vengono chiuse automaticamente tutte le istanze questo non va bene per risolvere il problema cioè l'utente vuole invece che rimangano aperte le varie istanze indipendentemente dal quale poi gli passa per la testa di chiudere ok per intendersi quindi io posso aprire il cliente Alfred Futterkist poi apro un altro cliente Franchi però poi magari ne apro un terzo ma poi però voglio chiudere magari il primo Futterkist però voglio mantenere gli altri ecco questo col metodo classico che rende le istanze dipendenti dall'originale non si può fare quindi vediamo il trucco in questo video ok allora clicchiamo su maschera 1 che viene fuori originale clicco sul comando 1 vedete istanza di originale adesso se io clicco su ancora sull'originale non succede niente perché praticamente cioè in pratica crea se stessa se già quindi non ne crea un'altra istanza vedete quindi è banale se cosa succede se io clicco sul pulsante comando dell'istanza e non più dell'originale vedete si crea istanza di istanza di originale ok quindi adesso vedete perché ho utilizzato la caption altrimenti non si potevano distinguere quindi ho sempre questa è l'originale questa è la prima istanza questa è la seconda istanza derivata dalla prima istanza se adesso chiudo l'originale vedete automaticamente spariscono tutte le istanze bene andiamo adesso direttamente sul progetto di questo mese allora abbiamo un form main ok abbiamo una tabella impostazioni che io adesso sembrerà più complicato ma in realtà non lo è perché vi facilita il compito nel caso in cui appunto dallo zip allegato voi vogliate prelevare il modello e poi sostituire alla tabella clienti per esempio la vostra tabella può essere contatti clienti fornitori quello che volete ok allora nella tabella impostazioni voi cambiate semplicemente il formain deve rimanere uguale il formain adesso vi spiego come va modificato basta semplicemente cambiare la query volante qui nella proprietà origine riga del controllo listbox ok fate click sui pallini tra i pallini e anziché clienti sarà la vostra tabella cioè i contatti eccetera scegliete i campi che volete visualizzare ok minimo due massimo tre quattro insomma ecco non di più ok quindi vengono fuori le colonne adesso non entriamo nel dettaglio ma comunque nel listbox vedete nella proprietà tutte fate attenzione che il numero delle colonne si è impostato sul numero voluto eccolo qua numero colonne lo vedete qui in alto a destra nelle proprietà del non della maschera ma del controllo che si chiama l'incotto in questo caso quattro vedete quattro sono le colonne poi ci sono larghezza colonne in centimetri separati da punti virgoli non importa che vi ricordate cm basta fare due punte virgola tre punte virgola lo facciamo allora due la prima colonna cancelliamo allora due tre 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 mi pare che fosse ok ecco vedete i centimetri vengono aggiunti automaticamente poi però nel vabbè il doppio clic richiama una routine che si chiama open a client che sta nel modulo bus public ok che vedremo tra un attimo e quindi quando l'utente fa doppio clic sull'elemento della lista deve partire la routine pubblica ok open a client cioè apri un client ok va bene calcola qua allora dicevo allora la query la prima colonna deve essere nascosta perché di solito no non importa in questo caso perché anche l'id va bene mostrarlo sono quattro colonne attualmente preleva a quei campi che abbiamo visto cioè togliamo torniamo un attimo indietro quel sono sono l'id cliente ok l'id cliente ecco andiamo qui lo vediamo l'id cliente il nome la società il contatto la città se voi cambiate chiaramente la tabella sceglierete i vostri campi e fin qui tutto ok allora l'altra cosa da fare ecco nel caso in cui vogliate sostituire la tabella clienti con la vostra ecco chiaramente allora la maschera clienti rimane la clienti sì perché è quella dove c'è il codice c'è una parte di codice beh questa no la potete rigenerare vediamo che codice c'è non ci dovrebbe stare tanto codice qui vediamo un po' faccio mente locale sì beh sì ovviamente questa maschera la dovete un po' rifare cioè vi conviene fare la creazione guidata sulla vostra tabella e poi copiate e incollate questo codice serve soltanto a recuperare i campi diciamo necessari per fare la ricerca ecco perciò più che altro l'istanza è una cosa poi posizionare il record corrispondente all'elemento della lista duplicare chiaramente comporta un po' di codice ho cercato il più possibile di portare il codice fuori cioè sulla routine pubblica sul modulo bus public così non ci sono problemi però una parte di codice deve stare sul clan quindi chiaramente questo qui bisogna che voi copiate e incollate il codice quindi fate una copia di questo cliente e poi lo copiate e lo ricollate nella maschera vostra che è stata prodotta dalla vostra autocomposizione sulla vostra tabella ok va bene può sembrare complicato ma chi ha la mano poi insomma capisce che è abbastanza semplice allora la cosa interessante quindi sostituite qui questi campi mi pare che ci sia anche una sì ho preparato una maschera impostazioni ecco per facilitare il compito tra l'altro ci sono anche le istruzioni qui sulla destra ma anche nella tabella vedete se guardate su impostazioni sulla struttura ok ci sono delle note che ho inserito qui in descrizione ok però le ho riportate sul form impostazioni allora la maschera client è il nome del form client quello che va clonato ok la maschera main e form main quello deve rimanere uguale ok cambiate solo nel modo in cui vi ho fatto già vedere l'origine riga del list box l'incotto ok il controllo list il nome l'incotto va bene potete anche clonare cambiare il form main cambiare il nome cambiare il nome del controllo list box tanto non cambia insomma la tecnica è la stessa campo chiave ecco il campo chiave deve essere l'id quindi se nel vostro caso si chiama non più id clienti ma id fornitore oppure id prodotto chiaramente qui va cambiato ok l'id è la chiave serve per fare il posizionamento sul record set il tipo campo chiave questa è una variabile di comodo che abbiamo impostato noi 1 intero lungo 2 string di solito vabbè se avete proprio un campo data vabbè si può cambiare il codice ma generalmente le chiavi ricerca tabelle semplici parliamo non complesse sono intero lungo o string quindi 1 o 2 e il campo descrizione anche questo è importante nome società quindi può essere nome fornitore nome del prodotto descrizione prodotto quello che è ok quindi una volta sistemati queste semplici impostazioni ok siete pronti allora andiamo a vedere che cosa succede qui nel nostro esempio partiamo da for main clicchiamo su blonde questo qui blonde p doppio clic e si apre vedete la maschera clienti su blonde p cosa succede andiamo a vedere allora abbiamo già visto che sul doppio clic parte la open a client la open a client è sul bus public ok andiamo a vedere eccola qua open a client all'interno c'è una ulteriore funzione che si chiama is already open perché chiaramente se l'istanza è già stata aperta su quel record quindi qua c'è non solo la gestione dell'istanza eccolo qui set frm frm è dichiarato qui all'interno della routine set dim frm as form allora si dichiara la variabile per l'istanza f frm quello che volete as form generico poi quando si invece si inizializza con la parola chiave new bisogna utilizzare invece il nome della maschera effettiva cioè dell'originale quindi set frm uguale new form client genera effettivamente la nuova istanza poi il visible ok sull'frm che è appunto il nome del nuovo oggetto la proprietà true quindi viene visualizzata e poi la caption è in questo caso il nome del campo descrittivo nel nostro caso il nome società quindi viene visualizzato il nome società sulla etichetta dell'istanza ok questo è un caso specifico poi attenzione qui c'è la novità allora per rendere indipendenti questo è il punto cruciale le varie istanze si utilizza un progetto particolare che si chiama oggetto collection o collezione collection questo cn client è definito vedete non più nella maschera ok quindi il trucco qual è che qui siamo già scusate nel modulo pubblico ecco quindi già ho saltato un passaggio quindi la creazione di una nuova istanza non avviene più in un form ma avviene in un modulo pubblico ok questa è la prima regola per rendere le istanze indipendenti la seconda è utilizzare il oggetto collection eccolo qua vedete nella sezione dichiarazioni del modulo generale bus public c'è vedete la dichiarazione public cln client as new collection ok questa è una collezione molto utile la collection perché ha il metodo add remove per cui non mi devo più preoccupare dell'ordine io posso aggiungere e rimuovere elementi a piacimento quindi è comodo in una varietà di casi se chi segue i nostri corsi sull'UBA e sull'UBA avanzato che tra l'altro è in produzione parleremo diffusamente di tutte queste tecniche che utilizzano le collezioni e poi soprattutto le classi diciamo che la collezione è un primo passo per avvicinarsi al discorso delle classi adesso chiuso la parentesi allora la cosa interessante degli oggetti collection è che a loro volta possono diciamo memorizzare non soltanto variabili tipo stringa numerico data ma anche degli oggetti anche complessi in questo caso noi addirittura memorizziamo i form o meglio i puntatori alle varie istanze in questo modo si rendono indipendenti perché in ogni momento nell'oggetto collection ok in ogni singolo elemento punta ad un'istanza differente quindi se io ne chiudo una praticamente non provoca nessun effetto sulle altre istanze né sull'originale ok quindi questo è il concetto chiaro per vedete come si utilizza la collection la prima volta è già inizializzata con la prova a nuovo livello di modulo quindi non c'è bisogno di inizializzarlo quindi io mi faccio il cln client add avete i due argomenti principali sono l'item e la key l'item è l'oggetto la stringa il campo il valore insomma il valore che vogliamo memorizzare nella collection in questo caso è il firm il form frm quello che abbiamo appena creato cioè l'istanza quindi chiaramente questa routine siccome viene attivata ogni volta che l'utente fa doppio clic sul formain ok ripetutamente ogni volta crea un'istanza differente e quell'istanza differente viene attribuita a viene caricata sulla collection ok la chiave attenzione anche questo è un presagio interessante la chiave per la chiave si può utilizzare qualunque deve essere stringa però ecco perché c'è la funzione di conversione c string ok viene utilizzato l'endel l'endel cioè la proprietà hvnd dell'istanza l'endel per chi non lo sapesse non è altro che un intero lungo in doppia precisione che viene utilizzato dal sistema operativo stesso cioè da windows per identificare univocavalmente qualunque finestra di windows che sia anche una finestra di dialogo un pop up ogni elemento diciamo di windows infatti windows significa finestra ha questo formoso handle ok l'endel della finestra quindi quello sarà per forza univoco perché viene assegnato automaticamente dal sistema quando si crea le nuove istanze si genera un nuovo handle diverso ed univoco da tutti i precedenti quindi quella è la chiave poi se addirittura vedete si chiude cioè si deinizializza immediatamente il form che ha creato l'istanza vedete questo è anche interessante dal punto di vista tecnico perché vedete io non ho più bisogno di tenere in memoria l'istanza stessa perché l'ho già clonata e l'ho già messa praticamente a collezione ok però siccome l'ho resa visibile quella è completamente indipendente lo so può sembrare un po' arcano il giro ma vedete che funziona tranquillamente ok adesso lo facciamo la prova cioè chiudiamo a caso qualunque istanza oppure anche l'originale e vediamo che non succede niente cioè qui poi non c'è un originale e attenzione qui ecco qui non c'è un originale perché in effetti sono tutte tutte istanze praticamente l'originale non viene mai aperto è un po' strano ma sì perché perché l'apertura vedete dell'istanza viene non più all'interno di una maschera effettiva diciamo aperta dall'utente nella finestra del database ma da una lottina pubblica che è open a client ok la is already open non fa altro adesso non andiamo nel dettaglio insomma praticamente è una funzione che ho creato io che va a recuperare va a ciclare vedete foreach faremo in forms e chiaramente tutte le istanze vengono memorizzate anche se sono istanze nella collezione forms anche forms è una collezione forms parentesi id del form il nome del form sapete già che è la stessa tecnica che è utilizzata nella isloaded vedete forms form name current view diverso da con esempio ok quindi forms ok da attenzione sono quelli caricati in memoria se una maschera è presente in un database ma non è aperta chiaramente da un errore allora torniamo al discorso isole di open isole di open va a vedere va bene recupera alcuni campi il campo della chiave il campo maschera cioè il nome della maschera client il nome del campo chiave in questo caso sarà clienti e di cliente ok poi cicla tutte le istanze fino a cercare il valore dell'id ecco in questo caso quindi sk field sarà id cliente quindi va a cercare qual è l'id cliente corrispondente perché c'è nel form clienti vedete c'è anche l'id cliente questo esattamente questo è l'id cliente nel nostro caso non è un intero ma è una stringa di 5 caratteri questa alfki vediamo nella impostazione se per caso è invece il long o un altro tipo non è importanza perché altrimenti il codice differenzia i campi tipo stringa da quelli tipo numerico vedete l'id cliente è un testo di 5 5 caratteri in questo caso difatti la routine isola di open vedete adesso qui non lo vediamo ma lo vediamo da un'altra parte ok mi pare che sia dopo vabbè nella open a client no allora è nella maschera client nella maschera client eccolo qua eccolo qui si vedete c'è un select case quello che cambia in sostanza sono gli apici semplici ok quindi ecco questa è praticamente l'istruzione che va ricopiata nella vostra maschera nella routine su attivazione vedete se il bullload fails vabbè il bullload è una variabile booleana semplice locale ok che mi serve per evitare rimpalli ok allora vedete se la ktype che era 121 numerico 2 string vedete se uno mi fa il fun first senza l'apice semplicemente questa storiella qua altrimenti genera un errore quindi mi fa il metodo find first sul record set dell'istanza quindi ok e mi va a cercare chiaramente controlla che sia caricato in model for main perché se il for main dove c'è il list box non è caricato è inutile non funziona quindi mi va a cercare qual è l'id dell'id client in questo caso della chiave ok e mi va sul kfield che appunto è la chiave di cliente uguale il valore della chiave ok quindi mi va a cercare il record corretto ok attenzione queste istruzioni sono indipendenti dalle istanze cioè vengono fatte comunque sempre sull'istanza perché sono all'interno della classe ok cioè queste istruzioni essendo dentro la form client il cliente è l'oggetto dell'istanza appunto quindi queste vengono tutte replicate quindi questa è la meraviglia dell'istanza perché non c'è bisogno di scrivere di nuovo tutto il codice ok quindi questo viene eseguito in maniera indipendente ok in ogni istanza ok allora se invece dicevo il tipo è stringa c'è l'apice avete l'apice di chiusura dopo ok perché se il campo chiave il valore campo chiave è stringa ci vogliono gli apici va bene questo è il motivo per cui c'è quel indicatore uno intero lungo due string se è data vabbè aggiungete case3 data allora se fosse data già che ci sono facciamo in questo caso case3 che non c'è diciamo data attenzione però nel caso data bisogna fare il reverse cioè sarebbe più opportuno fare un reverse al posto dell'apice ci vuole il cancelletto chiuso il cancelletto e poi però bisogna fare bisogna aggiungere una funzione diciamo così facciamo gli inglesi fanno così fanno to do cioè da fare to do ok creare creare funzione reverse date reverse date cioè rovescia il giorno il mese l'anno non so per intenderci ok quindi qua ci vuole un reverse date adesso la facciamo reverse date ok risk control e toglie aggiungiamo una parentesi però unicamente perché abbiamo aggiunto una funzione e poi ok va bene quindi bisogna creare una funzione ma l'abbiamo già in dotazione quindi nel corso tra l'altro colgo l'occasione nel corso vi abbiamo avanzato sicuramente implementeremo un bonus con tutta una serie di funzioni base che noi abbiamo già sviluppato abbiamo già un discreto database quindi sarà accessibile dagli utenti quindi non dovete reinventare la ruota ogni volta ok va bene ok allora adesso torniamo al discorso andiamo allora a runtime ok avete capito allora c'è un oggetto collection sul modulo pubblico ok ogni volta che faccio doppio clic viene attivata la funzione open a client e l'open a client verifica se per caso c'è in memoria un'istanza posizionata su un record già visibile quindi se io faccio alfredfulterkiste lo metto qua poi che ne so bergs bergs lo metto qua ok se adesso clicco di nuovo alfredfulterkiste vedete non succede nulla viene spostato il focus già sull'istanza non viene creata un'altra istanza quindi questo è ovvio perché cioè è ovvio è ovvio dal punto di vista funzionale dal punto di vista della programmazione non è niente ovvio bisogna prevedere tutti i casi allora adesso apriamo non so Thompson eccolo qua allora adesso vediamo una cosa se io tento di chiudere l'originale ho inserito un routine di controllo che di ah no avevo inserito un routine di controllo ma sul pulsante non sul chiusura x pardon comunque riproviamo apriamo il terzo record ok eccolo qua cioè la routine che volevo far vedere era questo ok attenzione la chiusura del phone principale comporta la chiusura automatica di tutte le stanze sicuro sì no ok praticamente bisogna inserirlo sul query on load anziché sul terminate vabbè o sul on load ok diciamo no è ok allora adesso guardate cosa succede abbiamo detto che queste sono tutte istanze indipendenti se io chiudo alfred fruterquiste non succede nulla se quest'altra rimangono attive supponiamo che io dopo averla chiusa la riapre di nuovo e tu mi la riapre di nuovo naturalmente ci sarà un altro handle un altro handle differente che è memorizzato anche quello da qualche parte cioè è la chiave ok e basta io posso chiudere tutte le mie cose le mie istanze sono completamente indipendenti e questo è il risultato che volevamo bene per quanto riguarda gestire le istanze multiple di maschere con Asys ci fermiamo qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti